In bianco e nero Costanza chiude la porta del ristorante di Melbourne in cui lavora. Nella foto a colori ancora Costanza, questa volta circondata dai vini di OCG della sua Carmignano. E' immortalata così nel reportage fotografico Cosa faccio e cosa vorrei fare, in mostra al Museo Italiano di Melbourne, Costanza Rossi, comianese di nascita australiana d'adozione, nella foto a colori, sogna di essere una wine importer. In realtà a Melbourne Costanza si occupa davvero di import-export di vini tramite la sua società Red Milk. Quando sono arrivata laggiù in realtà vedevo che c'era un grande gap a livello del mercato e quindi volevo provare insomma a importare i nostri prodotti, prodotti anche della zona del Carmignano insomma. Dopo anni di doppio lavoro, di telefonate su Skype in mezzo a una notte per gestire rapporti commerciali tra due paesi divisi da otto ore di fuso orario, è riuscita a portare i prodotti delle vigne carmignanesi ma non solo, dalla tavola della casa dove Costanza è nata come Ana a quella della casa dove Costanza vive in Melbourne che da settembre 2014 è anche la sua nuova residenza. C'è solo da aspettare, è un test finale di cultura generale, insomma spero di passare e poi ci siamo, un anno e mezzo o due credo di diventare australiana insomma. Domanda d'obbligo? Beh la cosa che manca è il nostro modo di stare insieme, il nostro modo, il semplice modo di stare a tavola insomma che vuol dire famiglia, che vuol dire tutte quelle cose che caratterizzano l'Italia e gli italiani.